Oggi presentiamo il rapporto annuale 2019 sul lavoro, frutto di una collaborazione interistituzionale tra Istat, Ministero del Lavoro, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INAIL e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Il riferimento dei dati è il 2019, quindi parliamo dei dati fino a gennaio 2019, quindi non riguardano gli eventi più recenti della crisi sanitaria che si sta verificando e che potrebbe avere effetti sul paese. Complessivamente il 2019 è un anno abbastanza positivo per il mercato del lavoro, l'Italia ha toccato il massimo nel numero di occupati che sono 23,4 milioni e anche il tasso di occupazione ha superato il 59 per cento e a fronte di una crescita del PIL non particolarmente dinamica perché si è limitata a un più 0,3 per cento. L'occupazione è cresciuta perché è cresciuto il lavoro dipendente e soprattutto il part time. In generale l'occupazione è cresciuta ma non altrettanto le ore lavorate perché effettivamente i lavoratori part time hanno un input di lavoro inferiore. Quello che ha caratterizzato in questi anni la crescita del part time è anche una crescita del part time involontario. Abbiamo un'incidenza del part time involontario del 64,3 per cento nel 2019, quindi c'è stata in questi anni una forte crescita del part time involontario. In generale come dire ci sono anche aspetti negativi che direi che sono principalmente due nonostante appunto la crescita dell'occupazione si sono ampliati i divari con il resto d'Europa perché l'occupazione è cresciuta e la disoccupazione è diminuita in tutta Europa ma in Italia è cresciuta l'occupazione ed è diminuita la disoccupazione in meno che negli altri paesi quindi è aumentato il divario con il resto dell'Unione Europea e all'interno dell'Italia sono aumentati alcuni divari. Ha aumentato il divario generazionale per cui l'occupazione è cresciuta più per le generazioni più adulte ed è aumentato soprattutto il divario territoriale. L'occupazione è cresciuta maggiormente nel nord e si sono ampliati anche i divari tra i tassi di occupazione e tra i tassi di disoccupazione tra il centro nord e il mezzogiorno. In questo rapporto approfondiamo tanti temi. Uno dei temi che approfondiamo è il part time che è un fenomeno molto diversificato e mettiamo in evidenza sia gli aspetti positivi che gli aspetti più critici. Approfondiamo poi il tema delle cessazioni e dei licenziamenti. Affrontiamo anche il tema dei tirocini extracurriculari e per ultimo approfondiamo il tema degli infortuni e delle malattie professionali e in generale del rapporto tra lavoro e salute. La collaborazione tra Istat e gli altri quattro enti che hanno partecipato alla stesura di questo rapporto è stata molto proficua e contribuisce a dare a tutto il paese, ai cittadini, alle istituzioni, ai policy maker, informazioni aggiuntive per muoversi meglio in questo mondo sempre più difficile e complesso. Grazie. 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 Grazie.